Questa è la super galleria che sto facendo con questa estrella che porta Mamma Help me Oh madonna Segnale GPS interrotto Guardate per forza San Debus Questa qua l'hanno fatta i tedeschi tempo di guerra Ma là in fondo è l'uscita Dove? Là in fondo Ma no? È 7 km No, 3 km no In fondo A destra andiamo in Austria Periché andiamo in Svizzera A me basta che usciamo da questo buco Anche Mi forego E cammino Perchè? Emotare